buongiorno a tutti buongiorno a tutti questa è la faccia disgustata e schifata che non riesce a far passare la nottata lo schifo di ste a a saterna io voglio ringraziare ancora il minan club carmine d'angelo tutti gli amici che che mi sopportano che scherzano dico che che adesso ho capito porto male io ma lo facciamo per per non 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 schifarci e non ridirci non ci sarebbe da sfondare tutto perché ieri vedere anche nicola degno vivo con le mani nei capelli che non ha farina che camminava nervosamente schifata e non ridito gente che se ne andava usciva per non guardare cioè a sto punto stiamo arrivando che non riusciamo neanche più a guardare perché perché non fai video perché ne fai così pochi perché io l'avevo previsto tutto e vedere gente che finalmente se ne rende conto non c'è bisogno che lo dico io perché io già lo sapevo inoltre voglio salutare e ringraziare la società della criteronina a cui ho chiesto un esodio dagli allenamenti per motivi familiari che non vi posso dire quindi che loro sanno che non vi posso dire quindi voglio ringraziargli e augurargli buone feste ma vedere uno scembio di prestazione vedere la squadra che praticamente gioca a senza un senso a membro di cane proprio alla Carlona a palle lunghe e lo sputtanamento di quattro anni di lavoro e sputtanamento di quattro anni di lavoro e il ciclo Pioli l'era Pioli deve finire non c'è mai stata non c'è mai stato il ciclo Pioli perché i risultati si sono arrivati ma a quale prezzo a quale schifo a furia di vedere emergenze infortuni cambia sceni cambia cazzo formazioni sbagliate mei tetra e quartista utile che ancora un insulto perché gioca a pallone come l'off tour chicche ieri a salerno e sono le stesse identiche cose da quattro anni solo che cambiano gli interpreti gli hai cambiato la squadra e sempre le stesse cagate sempre gli stessi gol sempre lo stesso schifo non si può andare avanti così io ieri ho dormito alle quattro di notte ho dormito alle quattro di notte ho preso sonno io ieri per lo schifo di ste perché non cresci su youtube non lo so ma io perché io le cose ve le dico non vivo sulle pigne perché adesso si sono accorti delle emergenze infortuni cambio sceni confusione tattica e altro schifo anche i grandi youtuber che sono milanisti qua si sono accorti delle emergenze infortuni ma sono dimenticati che castiglieco rebic e quelli che stavano prima passavano più tempo in infermeria che in calco sopra un campo di pallone ovvero siete dimenticati castiglieco stava sempre nel nello studio del terapista ovvero siete dimenticati quelli che giocavano prima le rose precedenti e prima c'era la scusa del covid che si gioca troppo non è che si gioca troppo è che tu sbagli preparazione perché gli altri infortuni ce l'hanno ma non come i tuoi non uguale tuoi ste non siamo scemi a pallone ci gioco ste a me non mi infinocchi si gioca troppo anche gli altri hanno gli infortuni ma noi sono tutti uguali perché tu non hai fatto uno straccio di preparazione atletica con la forza e tutti si fanno male dietro la coscia la vuol dire che tu non hai lavorato che non hai caricato che non hai fatto un cazzo capito ste qua non siamo scemi perché anche gli altri giocano e si fanno male però si fanno male in altri punti in altri punti altri si rompono le ginocchia come benasser che quello è un infortunio che non puoi imputare allo staff però il ciclo fioli deve finire perché se no anche se vince tutto per un miracolo per suicidare altrui come lo sculetto del 2022 a settembre ottobre novembre del 2024 della prossima stagione sempre in questo schifo ci ritroviamo perciò deve finire perché si troverai con una rosa nuova con giocatori nuovi che lui li stravacca oppure li fa scappare per lo schifo perché io ancora mi chiedo come mai Adli resta ancora là mi chiedo come che cosa deve succedere per quel povero Cristo metta piedi in campo poi c'è ma poi prende fa errori come a Bergamo ma se non gli dai fiducia se non ci credi se non lo culli quello non si impegna perché a che cazzo di motivo avrebbe di impegnarsi se quello non lo vede manco di striscio con Stefano Pioli giochi solo se ti fai male se si fa male quello prima di te se no tu il campo non lo vedi manco col binocolo l'avete capito no per questo deve essere sonerato per questo ci vuole abate subito anche ballardini un traghettatore autogestione ibra seduto nel banchina al posto di ste e fanno come cazzo gli pare ma sicuramente non vediamo questo schifo io non riesco a calmarmi perché oggi è peggio di ieri oggi è peggio di ieri perciò ringrazio il Milan Gleb perché loro mi consola non mi prendono in giro ma mi vogliono bene sono il loro portiere della loro squadra anche se abbiamo preso cinque gol a schifo dal Milan Gleb di Loconde e ci vendicheremo a qualunque costo ma 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 perché ho avuto una giornata storta e non ho parato come avrei dovuto se no a mezzo l'Inter non mi ha mai fatto l'Inter Gleb non mi hanno fatto ne ha più di un gol barra due ma purtroppo le giornate storte capitano a tutti ma ribadisco loro mi consolano mi 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 tengono calmo ci aspetta a fare i video che poi gli sbaglio infatti ieri ho detto ho sbagliato una cosa perché se no mi scordavo quello che dovevo dire mi tengono calmo perché io mi incatenassi a Milanello insieme allo zoccolo duro chiedendo l'esonero di stè perché non si può andare avanti così io non voglio trovarmi a novembre ottobre 2024 alla stagione prossima ancora con stè in emergenza infortuni campioni sceni derby persi e altro schifo perché sono quattro anni che sembra lo stesso film volendogli anche bene perché gli si vuole bene perché un po' di gioco c'è gli obiettivi li raggiunti ma a che prezzo quando abbiamo speso di medicine di terapie tanti soldi non li cacciamo noi ma se io fossi il proprietario l'avessi mandato a quel paese da un po' l'avessi esonerato subito perché le terapie le paga il presidente le paga la società quando ci costano i risultati di stè quando ci costa in fegato spappolato in collo sceni in derby persi e altro schifo quando ci costano quando ci costano ditemi quando ci costano di fegati spappolati ma non solo di confusione tattica e tutto quello che stiamo vivendo in questa giornata di prese per il puntini puntini ma lo sapete benissimo benissimo e ieri si è vista in conclusione perché lo faccio breve perché le pagelle non si possono fare nc a tutti e zero alleavo io ribadisco quello che ho detto sulleavo io li voglio bene un bellissimo ragazzo bellissimo nel senso bravo pulito di bella famiglia però non puoi giocare a pallone così raffa ieri hai fatto letteralmente pietà e sferato lo zero in pagella te ne rendi conto guarda la partita non fare come stai che dice le partite non le vere guardale quanto hai fatto schifo ieri ne hai seccato manco gli stop è una cosa allucinante ieri raffa ma non solo tu eh perché non dobbiamo prendere raffa leavo come capri spiatori ci sono io il male perché tutti hanno fatto schifo tranne tuo morica segnato ma ma vedere la difesa che non c'è più perché non sa fare uno straccio di preparazione ma ieri hanno fatto schifo tutti nc a tutti perché ieri zero a tutti cioè abbiamo giocato 20 minuti perché poi c'è alcuni mi hanno detto non è vero che non abbiamo fatto niente perché qualcosa abbiamo fatto ci sembra che non abbiamo fatto niente ma tu alla fine per la maggior parte della partita non hai fatto niente così come hai fatto niente a napoli dopo un primo tempo buono ti sei spento si merito anche degli avversari ci sono anche loro ma tu a ieri hai fatto letteralmente pena facevi passaggi all'indietro noi invece di pressare invece di correre invece di avere quella aggressività il sangue agli occhi quella cattiveria non hai niente quello che dico io quando non fai niente non pressiamo non ci alziamo pressiamo male a volte siamo scollegati e prendiamo sempre gli stessi gol ve ne siete resi conto o no ve ne siete resi conto oppure no cioè oggi è peggio di ieri perché io voglio che questo schifo finisce voglio un allenatore che prendo dei gol perché sono bravi gli altri perché una volta mi fanno un euro goal una volta mi fanno uno schema ma noi prendiamo sempre gli stessi gol lo sappiamo quando abbiamo un calcio d'angolo nel milan grebo quando vediamo le partite milanisti hanno i brividi abbiamo i brividi perché vediamo la squadra che sbanda che non che non ha un minimo di organizzazione di organizzazione difensiva manco il boemo che adesso ha problemi di salute zenec zeman manco zeman difende in quel modo sceno volendo di tutto il bene a zenec zeman cioè non si può non si può andare avanti così io oggi sto più disgustato di ieri voglio fare questo video super corto ultra sfogo del giorno dopo molto breve ma basta ste basta e non vi azzardate a dire che io non l'avevo detto perché io sono stato quello che lo dice da settembre e da settembre chi avrebbe immaginato emergenze infortuni cambio sceni e altro schifo è questo che stiamo vivendo adesso perché lo conosco mi sono invitato a niente suonerarlo perciò faccio pochi video perché vedere finalmente gli altri che stanno scendendo dalle pigne hashtag è una mia rivincita iscrivetevi al canale comprate la maglietta ringrazio gli sponsor di ammister blogger variani che sapete quali sono gli voglio fare gli auguri di natale perché loro a scatola chiusa hanno puntato su di me quindi il pancomo gli oleandri cardaccia e amadeus la pizzeria amadeus e il riparo che ha fatto le magliette ammister blogger variani non si dimentico degli sponsor e solo che è schifato e non ridito poi problemi personali e familiari mi distraggono dall'attività di youtuber ma io queste cose che stanno succedendo al milan le avevo previste mesi fa e andate a vedere i video di settembre di agosto quando dicevo attenzione a novembre che arriverà l'emergenza infortuni cambio a cazzo e altro schifo siamo terzi solo perché gli altri hanno allenatori più scarsi di noi e sono più in crisi di noi altrimenti saremmo settimi ma ma deve cambiare sta roba deve finire deve finire deve finire ciao a tutti e buone feste grazie a tutti